al confine tra la storica regione dell'alta baronia e della barbagia sorgeva il piccolo paese di onanì in una casetta di legno viveva un giovane ragazzo di nome bacchis bacchis era il più piccolo di una famiglia che da intere generazioni custodiva il segreto dell'antico pane carasato e anche per bacchis finalmente è raggiunto il momento di esserne il custode nonno mi hai fatto chiamare in che cosa posso esserti utile vieni qui figliolo avvicinati ormai sei fatto un ometto ed è giunta l'ora che anche tu svolga il ruolo che ogni uomo nella nostra famiglia svolge da tante generazioni sono pronto nonno dimmi cosa devo fare guarda sotto il letto troverai una piccola e vecchia cassaforte prendila